Certo, noi abbiamo immaginato di poter trattare questo argomento anche perché da un punto di vista farmacologico l'anziano è particolare perché ha delle caratteristiche farmacocinetiche, farmacodinamiche molto diverse rispetto al paziente più giovane. Per questo motivo abbiamo affrontato l'argomento partendo dalle caratteristiche del paziente anziano, poi ci siamo diciamo così dilungati sulla terapia farmacologica e ovviamente poi abbiamo affrontato un altro argomento importante che è quello riguardante le terapie invasive che nel paziente anziano a volte possono sopperire a quella che è la terapia farmacologica proprio in virtù del fatto che la terapia farmacologica ha un impatto generalizzato, mentre le terapie invasive hanno un impatto un pochino più localizzato e ovviamente nel paziente anziano è molto importante non sovraccaricare alcuni organi importanti quali il fegato, il rene ma soprattutto il cuore. Beh, ovviamente dobbiamo dire che l'Italia è uno dei paesi in cui c'è una maggiore percentuale di pazienti anziani rispetto a tutto quanto il resto dell'Europa e nel mondo siamo tra il secondo e il terzo posto rispetto a altri paesi come soprattutto il Giappone che ha una grandissima percentuale di pazienti anziani. Noi chiaramente che cosa suggeriamo? Suggeriamo delle terapie per questi pazienti che siano delle terapie adeguate e ovviamente nell'ambito di questi fattori terapeutici comprendiamo non solo le terapie farmacologiche e le terapie anche non farmacologiche ma anche un'igiene alimentare. Infatti nel convegno di oggi ci sono anche dei poster e si parlerà anche di alimentazione nell'anziano perché effettivamente nell'ambito di tutta quanta la terapia che un paziente anziano può attuare per poter condurre una buona vita e una buona qualità di vita c'è sicuramente anche l'alimentazione sana e un'alimentazione equilibrata al fine di evitare soprattutto il sovrappeso che nel soggetto anziano può determinare una estrema sollecitazione delle articolazioni. Grazie